Quella notte era una notte buia, non c'era la luna, un mare stupendo, quando a un certo punto verso le due e mezza di notte mi sono accorto che in mezzo al mare c'era una luce blu, almeno sono stati, due cento, persone che mi guardano e non le abano e non sono accorto E ora, ai state i nomi, a te si sono una loro bianca, un bianca, un bianca, un bianca, non ho scendato, i miei erenti, uno dei due due in pace, non ne sento qualcosa, se non erano era una mia vita, un'ilevazione, ma era un bianca, un bianca, un'amontanza diverse Oggi è il 3 ottobre, giornata della memoria e dell'accoglienza. Siamo qui a Lampedusa per ricordare le vittime del 3 ottobre perché sono nati invisibili, sono morti invisibili. Non si può veramente comprendere a pieno tutto quello che queste persone hanno vissuto finché uno non le conosce veramente, finché non le vede in faccia. L'isola mi ha scolpito qualcosa nel cuore e io quindi per ricambiare questo grande favore ho deciso di diventare volontario e di dare un mio contributo concreto a questo progetto. Ognuno di voi si porterà a casa un pezzettino e se ognuno di voi quel pezzettino lo passa a qualcun altro allora sì che il puzzle è di prendere forma. Venire a Lampedusa è una scoperta in se stessi in quanto ci mettiamo in discussione e ci chiediamo veramente qual è la nostra missione. Ognuno di voi si gravi e ci chiediamo Grazie a tutti.